è una partita importante al di là delle partite che va saputo a giocare ho recuperato alcuni giocatori importanti devo dire è un derby dove dove al di là del derby ci serve un risultato importante per per raggiungere questa benedetta bandia montagna metterci la bandiera sopra io credo che ci sta anche avere un attimino un periodo non di cattiveria agonistica di cazzima come diciamo noi ci sta pure esserci però come hai detto tu domani è una partita troppo importante no va al di là al di là di tutto d'altronde è un io credo che noi lavoriamo per un per un obiettivo molto importante ma io ho recuperato tutti meno un attimino Jedi c'è qualche problema lo porto perché mi serve mi serve insomma al di là di questo io credo che stanno tutti abbastanza bene abbastanza bene vorrei veramente ma sono convinto che loro lo sanno questo domani è troppo importante via troppo troppo importante al di là di di qualsiasi cosa chiudere domani è troppo bello insomma troppo bello io non non sono un allenatore che che cerco alibi l'asic gioca terzino perché sa giocare terzino perché ci ho lavorato da terzino per rotta non è un c'è un esterno sinistro ma lo sta facendo bene bedawi sta facendo l'esterno bene daniele è rientrato il daniele sotto lo spirito che diceva il tuo collega prima ci vuole quel è inutile rega dobbiamo giocare dobbiamo salvarci punto e ci vuole quel quello che ognuno di noi quando va fa un esame lo deve superare come un po di culo e poi via scusate la parolaccia grazie